a ebbene a tutti ragazzi c'è il tex che vi parla ed oggi siamo tornati in un video aggiornamento perchè ho appena appreso di alcune notizie davvero calde e scottanti e ve le dirò oggi si sono in ritardo di un giorno perchè dovevo farvele sapere ieri però meglio tardi che mai si dice allora adesso vi leggerò il post che ha fatto la 4j studios su facebook e questo aggiornamento letto dal titolo sarà la quadic update e sarà incluso in tutte le console quindi xbox ps4 ps3 ps vita nintendo switch proprio su tutte quante ovviamente su tutte le console perchè su pc già è stato fatto questo aggiornamento e poi ci sono anche altre indiscrezioni che andremo a vedere insieme allora intanto che qui c'è questa partita in sottofondo vi leggo il post della 4j studios allora informazioni sull'aggiornamento acquatico console legacy 21 giugno 2018 data e soggetto a cambiamento che sarebbe proprio oggi io questo video lo sto registrando ovviamente ieri per poi ovviamente ieri e questo post è stato pubblicato vi dico subito il 19 giugno alle 21 e 48 quindi sono stato un po' in ritardo io va bene allora stavo dicendo quindi stavo dicendo uscirà il 21 giugno 2018 poi va bene hanno scritto un'altra parte che diceva questo con questo con questo detto come traduce bene facebook fa bene con questo non è detto cioè non è al sicuro al 100% che l'aggiornamento verrà fuori quel giorno è solo il migliore appuntamento per ora vabbè lasciando perdere la traduzione non è sicuro al 100% che l'aggiornamento esce oggi ma comunque se non è oggi è domani se non è domani è dopodomani ormai siamo arrivati dovrebbero farlo uscire oggi però se hanno qualche problema non uscirà oggi adesso andiamo a parlare dell'acqua di Cupdate come ben sapete aggiungono un casino di cose le tartaruche, nuovi pesci, i coralli cioè ti aggiungono davvero un casino di roba e sarà un aggiornamento davvero molto molto corposo quindi ragazzi se qualcuno vuole qualche consiglio più che consiglio qualche domanda da farmi scrivetemela sotto nei commenti e questa è davvero una notizia molto molto importante anche sui uscirà questo aggiornamento e adesso vi parlerò di queste indiscrezioni la community si sta ancora lamentando non sto parlando solo italiana ovviamente ma io perchè prendo le stesse chest va bene la community in generale non italiana anche inglese francese un po' in generale si sta lamentando di un update che non è stato mai fatto sul console edition sapete tutti di quale stiamo parlando stiamo parlando del combat update che non è mai stato fatto qui e la 4G studios ha risposto che non hanno intenzione di fare quell'aggiornamento quindi il combat update mettete bene in testa non uscirà mai su ps4 su xbox e su tutte le piattaforme console ehm alcuni utenti si sono anche lamentati del fatto che non ci sono nemmeno gli scudi e secondo me qui hanno molto ragione perchè non aggiungere gli scudi tipo uno se lo mette qui facciamo finta l'arco lo spostiamo all'ascia tu scaccia l2 e si attiva lo scudo perchè non possono metterlo e sullo scudo secondo me ha ragione un po' la community a lamentarsi perchè si lo scudo potrebbe essere messo tranquillamente perchè non lo vogliono mettere non l'ho capito boh e questa è una strana domanda che mi faccio eh bravo da dietro solo così eeeh è nulla quindi combat update nulla lo scudo penso che non lo metteranno mai neanche quello però ci sono alcune voci non c'è ovviamente nulla di certo che sta a dire che metteranno in un futuro le mod non dico mod serie dico mod un po' stupidotte ehm potrebbero mettere delle mod serie come voler i bici però no ci basiamo a delle mod stupidotte e va bene già sarebbe un grande passo avanti se le mettono eeeh e nulla sarebbero cose molto molto interessanti se eeeh se vengono appunto applicate il problema è devono essere applicate perchè voci 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 e poi non fanno mai niente quindi se metteranno le mod io sarei la persona la più felice del mondo in quanto sono sempre il primo che sostiene le mod mettete le mod mettete e quindi sarei davvero felice se le metterebbero però non sappiamo nulla di certo l'unica cosa certa è che uscirà se non oggi domani l'aggiornamento marino e quindi domani ci porterò anche una live eeeh e nulla ragazzi questo è il video aggiornamento vi ho detto tutte le novità uscirà un video aggiornamento in questi giorni dove parlerà di altre voci però non le metto in questo video perchè è una roba lunga da spiegare e che non c'entra niente con l'aquatic update e con queste altre indiscrezioni non c'entra completamente nulla eeeh quindi ragazzi per questo video è tutto scusate ancora se l'ho pubblicato in ritardo in quanto lo dovevo pubblicare ieri lo so eeeh io il post l'ho visto solamente ora l'ho visto e mi sto mettendo a registrare il video non sapevo completamente nulla eeeh niente ragazzi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e niente ragazzi dai flex è tutto bella ciao 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 ciao